Se Carpi è questo, dormo sogni tranquilli. Altro che sogni tranquilli, Savino Tesoro ha dato l'ultimatum all'ERDA e alla squadra. O si vince o si prendono provvedimenti, è quanto ha dichiarato il massimo dirigente giallorosso in una nota diffusa sul nuovo sito della società giallorossa. Sono pienamente cosciente delle difficoltà che la squadra sta incontrando da un mese a questa parte, ha dichiarato Tesoro. Nell'ultima partita di Carpi ha notato una reazione della squadra sul piano mentale, non sufficiente però ad evitare la sconfitta. Sono ancora così convinto delle potenzialità della nostra rosa che proprio per questo non saranno più tollerabili prestazioni come quelle che purtroppo abbiamo fornito nelle ultime gare, continua il massimo dirigente giallorosso. Siamo ad una giornata dalla fine del girone di andata e non saranno più ammessi i passi falsi. L'allenatore, lo staff tecnico e tutti i giocatori sono chiamati a dare immediatamente delle risposte convincenti sul piano del gioco e dei risultati, altrimenti la società che rappresento sarà costretta a prendere tutti i provvedimenti del caso. Molto chiaro il presidente del Lecce per l'ERDA e la squadra è l'ultima chiamata e il primo a pagare in questi casi è sempre il tecnico difeso dallo stesso presidente subito dopo il fischio finale della partita di Carpi. Oggi a l'ERDA non posso pensare, ci abbiamo fatto una prestazione del genere. Abbiamo giocato in dieci, abbiamo giocato in emergenza se vogliamo. A freddo evidentemente il presidente ha fatto riflessioni differenti. Difende la squadra a spada tratta il portiere Benassi, capitano di giornata a Carpi. Voglio fare dei grandi complimenti alla mia squadra. Significa che questa squadra, siccome qualcuno, almeno a Lecce, va detto qualche problema, questa squadra ha tutte le caratteristiche per vigile questo campionato e non so più che certo. Stiamo passando un momento di difficoltà, questo non ci dobbiamo nascondere, però se giochiamo come oggi ne perdiamo poche di partite. E poi ci deve girare pure a noi. È un momento così, l'importante è rimanere compatti. Con la ripresa della preparazione si comincia a pensare all'Albino Leffe, sabato prossimo ultimo avversario del girone di andata. Cominciata anche la prevendita per questa partita che terminerà poco prima dell'inizio del match. Per i tifosi ospiti invece sarà possibile acquistare il biglietto fino alle 19 di venerdì 21 dicembre.